Stavo pelando le patate ed entra Marco e mi dice Nonna, non riesco a aumentare il mio business E io ce li rispondo Ma ce l'hai il sito internet? No, allora fai ancora pubblicità su... Fatti un bel sito con un body con le info più importante Un frontend che faccia vedere bene il tuo logo Use and Friendly E questo ti piace? Allora, clicca mi piace qui sotto Allora, clicca mi piace qui Allora, clicca mi piace qui sotto